buongiorno a tutti voi di inter live ragazzi in questo contenuto parleremo come di consueto parliamo della visione di james league di interporto che andrà in scena domani sera a son siro alle ore 9 parliamo subito di interporto ci sono già stati quattro incroci che sono stato che sono il porto inter 1 a 1 il 23 febbraio 2005 ha nato gli ottavi poi interporto 3 a 1 per l'inter 15 marzo 2005 ritorno gli ottavi porto inter 19 ottobre 2005 girone interporto 21 primo novembre 2005 girone quindi questi sono i quattro incroci poi il porto nella liga premiera portoghese è secondo con benfica con il benfica capolista finora è protagonista di una grande stagione dopo 21 giornate il porto si trova almeno due della vita ragazzi ma con una partita in più con una partita in più il bilancio è quindi 16 vittori tre parigi e due sconfitte ragazzi l'andata contro il benfica ha premiato gli avversari 1 a 0 al 2 dragone a ritorno al daluzio 9 aprile quindi si gioca tra poco parliamo subito del porto come come gioca perché gioca un calcio molto meraviglioso intanto chiede l'attore l'attore è una vecchia conoscenza del calcio italiano ragazzi sconfessato sergio e giocavo in ala che seria giocata dal 1988 al 2004 anche l'inter poi con su solo dal 2017 guida il dragones dove ha giocato e ha vinto in carriera sta facendo ancora meglio in panchina 9 titoli conquistati fra titoli fra tra i quali tre scudetti ragazzi come gioca allora consenso a due moduli i due modi di sperimentazione 442 o e 443 che può tornare in base ai treppi è una squadra solida organizzata che proprio alle grazie con realità funzioni in inentabile fasi con attenzione in particolare le ripartenze poi la formazione anti inter del porto è 442 diogo costa giuomani pepe marcano 32 franco guistaglio guici peppe tarare martinez e entro il conquistato questa squadra ha tanti a punti di forza e punti deboli partiamo con i punti di forza che sicuramente capacità di creare gioco così da gol a ripetizione e la fondamentale la presenza di medita rami la stella di attacchi iraiano il 92 gioco a quarta ventiera di stagione 55 in 5 la ricerca e forse ricorderemo anche nella scorsa edizione con la sua protezione riusciata ai quarti contro celsio volata da uefa come gol della stagione ragazzi non ho dimenticato il portiere di augurata eccellente parla rigori 5 di fila naturalizzate tra nazionali e club i punti deboli il porto crea sempre tanto ma non riesce sempre a concretizzare ragazzi perché ragazzi si crea tanto però non siamo noi non riescono a buttare sempre dentro la sconfilla più pesante stagione è stato il co in casa lingo contro il brucio per quattro a zero incazzata al gioco poi portuguesi superiori in tutte le statistiche ma travolti dai belghi poi secondi nel girone poi leone alla tenuta difensiva se consensavo condividi campionato il migliore del reparto col benzica 12 rette concesse il primo impatto in giampio era stato da incubo 6 gol presi in 180 minuti la coppia difensiva era pepe carmo ecco perché l'acciono marcano a scatto di gerarchia poi e gli ultimi disponibili per milano sono francesco menseido fabio cardosso e matteo ursibio otavio gabile vero e galeno e e vani sonna quindi questi sono i disponibili per il porto per milano invece l'inter si dovrebbe schierare col 352 onana in porta schierina certi bastoni in difesa darna barella proti sarango di marco in centrocampo lukaku autaro lukaku e lautaro in attacco queste sono prove formazioni per ora ragazzi il misto in zaghi parlerà alle ore 12 30 su inter tv seguite tutte seguite le parole del mister e vi ricordo ore 12 dalle 12 alle 12 20 prima della conferenza stampa di mister zaghi parleremo con alberto scotta ospite di sport italia quasi tutti i giorni da aspettando alle ore 12 iscriviti al canale e cominciamo sempre e sempre solo forza inter